Due vecchietti, Mario lo sai, l'altro giorno sono tornato a casa, ho trovato una zingra di vent'anni che mi stava rubando gli ho detto fermati subito signorina che chiami i carabinieri, lei dai non chiamare i carabinieri, faccio tutto quello che vuoi, davvero faccio tutto quello che vuoi, Mario siamo andati di là nella camera, si è spogliata tutta nuda te dovessi vedere che lavoro vent'anni, mi sono impegnato, prova, prova, riprova, e beh come è andata a finire, ho dovuto chiamare i carabinieri